La raccolta di racconti Panamericana, curata dal fiorentino Alessandro Raveggi e uscita per la nuova frontiera, è un'antologia dalla natura singolarissima. Il curatore ha infatti chiesto a nove autori di lingua italiana di scrivere dei testi in varia natura ispirati a dei noti autori sudamericani. Noti ma non necessariamente notissimi. Panamericana si propone infatti anche come va di me, come piccolo portale di accesso al mondo letterario dell'America Latina. Parliamo col curatore di un libro che, insieme alla nascita e al lavoro di case editrici come Sur e la nuova frontiera, sembra sottolineare l'ideale passaggio di testimone tra le letterature del nord e del sudamerica. Racconti di affinità e amore per fantasmi concretissimi. Definisci così i racconti di Panamericana, nati dall'influenza e in alcuni casi dall'ossessione di un gruppo di scrittori italiani scelti da te nei confronti della letteratura sudamericana. Come è nata l'idea di Panamericana e a che esigenza risponde? Principalmente è nata da un'esigenza mia, cioè è da quella di, in qualche modo, ritrovarmi, di ritorno da Latinoamerica, dal Messico, di ritrovarmi con un gruppo di persone che sapevo avessero gli stessi amori, le stesse letture. E quindi in qualche modo è nata anche come un gioco di lettura. Cioè, in qualche modo, l'idea è quella di ritrovarsi, idealmente in una sera, e raccontarsi ognuno il proprio maestro latinoamericano, cioè la lettura che ci ha fatto innamorare. E da lì è nata l'idea di proporre a questi autori, che io stimavo come autori di narrativa italiana ma che conoscevo anche come bravissimi lettori di autori latinoamericani, di fare questo gioco di creazione, di creare dei racconti che non sono dei saggi, che non sono nemmeno dei pezzi semplicemente autobiografici, in cui loro raccontassero l'autore, una parte dell'autore, parodizzassero in qualche modo l'autore, lo in qualche modo sbeffeggiassero a volte, perché ci sono anche racconti in cui si sbeffeggia il maestro, proprio per amarlo forse di più, e riscrivessero alcune parti. Insomma, loro hanno scelto, gli invitati diciamo di questa antologia, hanno scelto l'approccio migliore per qualcosa che comunque è un racconto, quindi qualcosa anche da leggere e da gustare. Ecco, una cosa che mi incuriosisce è che questo libro è appunto molto particolare perché si crea un rapporto quasi di figlioranza tra l'autore sudamericano e l'autore italiano che appunto lo racconta, come dici proprio nell'indice, c'è scritto così, Vanni Santoni racconta Borges, per esempio. Come hai scelto le combinazioni e che tipi di alchimie si sono create tra questi autori diversi? Innanzitutto c'è da dire che è stato interessante perché è un'antologia in cui l'autore italiano ha un'importanza, perché viene messo in prima fila, diciamo, specialmente di fronte a questi maestri, ma ho scelto, per esempio, l'indice di questa raccolta l'ho scelto in base al nome dell'autore latinoamericano, non al cognome. Perché? Perché ricevendo questi racconti mi sono reso conto che loro trattavano questi autori come amici, anche quando si sbeffeggiano, però comunque c'era un rapporto di amicizia, c'era un rapporto di amore amicale, insomma, fra questi due scrittori, no? Fra quello, diciamo, morto, diciamo, comunque da ricordare e lo scrittore italiano. E quindi la scelta è nata così. Ovviamente ci sono state in realtà lunghe email, fra me e gli autori, in cui abbiamo scelto l'autore per loro, perché c'erano varie proposte, perché, faccio un esempio, il racconto di Fabio Stassi in realtà potrebbe essere attribuito a Coro Chiamato più che a Vinicius de Moraes. Io ho scelto con Fabio di intestarlo, in qualche modo, a un'altra presenza importante di quel racconto, che è Vinicius de Moraes. Perché? Perché mi piaceva la figura di Vinicius de Moraes come un poeta, cantante, compositore, una figura poliedrica, che secondo me definiva tutti gli altri autori. Cioè, se pensi agli altri autori latinoamericani di questa raccolta, sono tutti un po' in qualche modo eccentrici, sono tutti un po' al di là dell'eccentricità purtroppo politica, perché sono stati spesso costretti a abbandonare le proprie nazioni per motivi politici e dittatoriali. Però erano tutti giornalisti, sceneggiatori, quindi erano figure creative e interessanti e per questo, appunto, con Stassi abbiamo deciso di scegliere Vinicius de Moraes. Per fare un esempio. La cosa interessante che è venuta fuori è che questa antologia non presenta autori latinoamericani tra i più noti. Cioè, ci sono dei classici, c'è Borges come dicevi, ma voglio dire anche B.O.I. Cassare sia un classico, se vogliamo, di un certo tipo di letteratura fantastica. Però sono tutti autori, come per esempio Roberto Hartl, che in Italia sono ritornati da poco. La cosa importante di questa antologia, che io dico nell'introduzione, è che nasce grazie anche a delle case editrici come La Nuova Frontiera, ma anche Sur, ma anche Del Vecchio, ma anche Gran Via, ma potremmo dire anche Keller, insomma, che hanno riproposto autori latinoamericani. E quindi hanno, in qualche modo, fomentato una nuova lettura migliore, forse, di quella che c'era stata negli anni 70, in cui le grandi case editrici avevano buttato, diciamo, quasi al macero, direi, o comunque buttato sulla piazza autori grandi, forse non facendogli nemmeno un gran favore, perché le avevano praticamente sprovvisti, in qualche modo, di background, degli altri, quelle che fanno parte di una costellazione di letture, che secondo me sono importanti. Dopo decenni di influenza statunitense, quindi nordamericana, sulla letteratura italiana, ma diciamo mondiale, si registrano, negli ultimi 5-6 anni, si registrano dei segnali di cambiamento, come per l'appunto il lavoro di case editrici come Sur, La Nuova Frontiera, che guardano soprattutto al Sud America, e anche come questo autolibro pure fa. Quindi, secondo te, in qualche modo, la letteratura latinoamericana sta diventando un po' la nuova letteratura nordamericana? Sta diventando un po' la nuova letteratura latinoamericana per due motivi. Dall'altro perché ci siamo reso conti che certe tematiche migratorie, identitarie, che fanno parte oggi di un interesse anche, forse, del lettore italiano, sono state trattate da questi autori in modo creativo molti anni fa. Quindi anche i classici, anche García Márquez, se vogliamo, raccontava in qualche modo di una metamorfosi di identità, da Macondo era in qualche modo l'esempio della travagliata identità mieticcia latinoamericana. Meticciato se ne parla ultimamente, ma se ne parlava negli anni 70, e in Italia, secondo me, è qualcosa che oggi viene, come dire, più interessante da ripercorrere. E quindi per quello, forse, c'è questa attrazione. Il mondo si sta, diciamo, latinoamericanizzando in un certo senso. Pensiamo anche all'Italia. L'Italia oggi, se pensiamo a Milano, Roma, sono città in cui oggi la comunità latinoamericana è molto forte. E questo, penso, si senta anche, no? L'altra cosa, devo dire, è che molti degli stessi autori latinoamericani contemporanei si stanno globalizzando, tra virgolette. Ne parlavo ieri sera con Valerio Luiselli. Valerio Luiselli vive a New York, suo marito vive a New York, entrambi sono scrittori latinoamericani, messicani. Però, in qualche modo, lo scrittore latinoamericano oggi vive ovunque. E questo, secondo me, favorisce anche. Cioè, lo scrittore latinoamericano che vive a Parigi, Berlino, New York, in qualche modo sviluppa un linguaggio che è latino, quindi, insomma, non dimentichiamoci vicino, in qualche modo, anche a sentire italiano, però, allo stesso tempo, ha qualcosa anche dell'inglese, no? E quindi, forse, è un mix perfetto fra quello che ci piaceva, insomma, gli anni 80, 90, anche il 2000, insomma, la letteratura americana era la fissa, un po', no? Di tutti. E mi è compreso. E poi, cioè, c'è stato questo passaggio, forse perché è maturata anche la letteratura latinoamericana. A questo riguardo, oltre a curare la raccolta, quindi anche a pensarla, tu hai anche scritto un racconto in cui ti confronti con José Emilio Paceco. Nel tuo caso, com'è andata? Com'è stato il tuo rapporto, appunto, con l'autore americano? Allora, devo dire che, prima di tutto, questo racconto all'inizio ero indeciso se metterlo, perché era nato come un gioco nel gioco, perché, appunto, l'editore voleva che io entrassi a piano titolo, diciamo, all'interno di questa raccolta, con il mio piede, non solamente con la mia idea, e quindi poi, alla fine, ho accettato la sfida e ho accettato la sfida con un autore, che è Paceco, avrei potuto scegliere Bolagno, anche se Bolagno mi avrebbe causato problemi perché, sapete, Bolagno è cileno, messicano, avrei fatto sicuramente un racconto su Bolagno in Messico, e in realtà ho scelto una figura ombra di questi anni del Messico, che è Paceco, che è un autore raffinatissimo, completamente differente da Roberto Bolagno, ma che, secondo me, rappresentava, forse, l'altra faccia del Bolagno, come si vive in Messico. E' un autore straordinario, perché riesce a rendere puri e cristallini, veramente come un racconto modernista, il caos e la vivacità della vita messicana, della vita latinoamericana in genere, potremmo dire, no? Quindi ho scelto proprio di raccogliere la sfida con quest'autore, che io avevo letto e amato molto in Messico, e poi, come sai, come sappiamo, è stato riproposto in Italia anche da Sur, quindi in qualche modo spero che poi venga letto nei suoi racconti, ma anche nelle sue poesie, è anche un grande poeta. Quindi, insomma, è quella un po' la sfida.